Importante nomina per Riccardo Bettica, psicologo lecchese, già per due mandati ai vertici dell'ordine professionale regionale. Con voto del Consiglio regionale, Bettica è stato eletto nuovo garante dei diritti dei minori per tutta la Lombardia. Certamente dopo l'impegno messo in questi dieci anni all'ordine professionale, anche rispetto al mandato culturale di tutela delle fasce più deboli o delle persone che hanno bisogno, sono veramente contento di aver ricevuto un mandato praticamente all'unanimità del Consiglio da parte di tutti i gruppi consigliari per questo ruolo, che è nei fatti ancora molto da inventare e da sperimentare. A 30 anni dalla Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza delle Nazioni Unite, in Italia stiamo soltanto oggi varando tutte quelle misure e tutte quelle tutele, anche in termini culturali, che permettono di mettere i bambini in primo piano. Come ho dichiarato il giorno della nomina, sono la nostra speranza, sono un investimento per quanto riguarda i più piccoli, mentre sono davvero qualcosa che dobbiamo capire e a cui dobbiamo agganciarci per quanto riguarda gli adolescenti. Sono la punta di diamante, il futuro della nostra generazione e non possiamo rimanere indietro anche in questo. Dobbiamo lavorare su gli aspetti del sostegno al sistema scolastico e alle famiglie. Un altro aspetto molto delicato riguarda i servizi del sistema sociosanitario per quanto riguarda l'adolescenza. Oggi come oggi gli adolescenti, e lo dico anche in questo caso da garante e psicologo psicoterapeuta, hanno delle problematiche principalmente nell'area della salute mentale e è davvero il momento di investire su una salute mentale dedicata a loro.